Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in occasione del concerto di Vascrossi, che si è tenuto ieri a fuorigrotta, a stadio Diego Armando Maradona, ha predisposto un piano straordinario di controllo per prevenire le prime del condotto illecite di contraffazione e droga. Denunciati per contraffazione, 19 responsabili mentre 12 sono stati soggetti segnalati al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e spinelli. I servizi sono stati svolti dai baschi verdi del gruppo Pronto Impiego e dal primo gruppo Napoli, coadiuvati dalle unità cinofile in coordinamento con la sala operativa del comando provinciale delle Fiamme Gialle. In particolare nel corso del piano di intervento sono stati sequestrati diverse centinaia di articoli contraffatti, materiale promozionale e merchandising del Tour Vasco Live 2022, tra sciarpe, cappellini e fascette. Sanzionate sempre nella zona dello stadio anche 13 attività commerciali per violazioni concernenti la mancata memorizzazione dei corrispettivi e un parcheggiatore abusivo. L'operazione condotta anche su input del nucleo speciale beni e servizi di Roma si inserisce nel quadro dell'azione di contrasto del corpo degli illeciti economico-finanziari ed è stata orientata al contrasto di diversi fenomeni illeciti che minacciano in particolare il diritto d'autore e la sicurezza dei consumatori.